Con Kant abbiamo avuto a che fare con una rivoluzione silenziosa, cioè con l'attività di un professore di genio che chiuso nel suo studio in una piccola città tedesca, anche marginale rispetto alla Germania, elabora un sistema profondamente originale. Con Hegel invece abbiamo a che fare con una rivoluzione molto più palese, con quello che appare essere a tutti gli effetti un uomo molto più calato nel suo tempo, un tempo che fra l'altro è stato anche molto più tempestoso per la Germania di quanto non sia stato il tempo di Kant, dal momento che quando Hegel si affaccia verso i 30 anni alla carriera filosofica, la Germania è attraversata dalle armate di Napoleone che sta cercando di riorganizzare secondo i principi della rivoluzione francese e poi dell'impero il sistema politico europeo. Rientra nelle mitologie hegeliane il fatto che mentre lui scriveva la fenomenologia dello spirito, ossia il suo capolavoro giovanile Napoleone si stava battendo a Iena, lì vicino a dove Hegel scriveva. È un fatto che Hegel a un certo punto è stato giornalista, direttore di un giornale e questo non è così strano per uno come Hegel perché Hegel non è soltanto il filosofo professore ma è anche il pensatore radicalmente calato nella storia. Comincia a entrare una figura di filosofo che poi dopo troverà le sue realizzazioni in pensatori come Marx o come Nietzsche, cioè gente che scriveva e leggeva sui giornali, aveva un'attenzione nei confronti del proprio tempo che difficilmente si può trovare in filosofi precedenti. Hegel ha detto che la filosofia è il proprio tempo compreso con il concetto. Allora uno dice vabbè perché agli altri non importava il proprio tempo, certo gli sarei importato ma non gli importava come filosofi perché Hegel invece ha stabilito un nesso molto forte e che non troviamo in pensatori precedenti tra la storia e la verità. C'è qualcosa dentro alla storia che manifesta la verità e riuscire a comprendere la storia significa fare un lavoro intimamente filosofico, che non è semplicemente fare la raccolta di fatti avvenuti, ma capire che cos'è il significato del proprio tempo e capire qual è la direzione che prendono le nostre azioni, i nostri pensieri. Ovviamente Hegel non è stato soltanto questo, nel senso che è stato anche il grande pensatore sistematico e in questo essere pensatore sistematico in fondo Hegel si collega ancora a dei modelli settecenteschi, all'enciclopedia, ai trattati, nel senso che quando Hegel ci offre una delle sue opere filosofiche fondamentali come l'enciclopedia delle scienze filosofiche in compendia, nel senso che non poteva farla lunga come quella di Dideroy d'Alan Verma, in realtà è un sistema filosofico che vuole rendere conto della totalità della realtà, quindi non soltanto della storia, ma anche della natura, non soltanto del mondo oggettivo, ma anche del mondo soggettivo. Tutto questo è qualcosa che lega Hegel al passato, ma insieme ci mostra quanto più vicino al presente e soprattutto al mondo della società e della storia a Hegel rispetto ai suoi predecessori. L'ultima opera di Hegel, quella a cui stava lavorando nel periodo in cui era diventato professore a Berlino, coronando la sua carriera filosofica, erano i lineamenti di filosofia del diritto, che significa che appunto il focus della riflessione filosofica non è più puntato sulla natura, ma appunto sul mondo umano e quindi il diritto e la sua filosofia, il modo in cui gli uomini regolano i rapporti fra loro, diventa il centro della riflessione filosofica.